Chiude la tenenza della Guardia di Finanza di Petrelia Soprana e i residenti insorgono. La struttura verrà aggregata a quella di Cefalù, ma adesso il rischio è quello di un isolamento totale di un ampio territorio delle Madonie, che conta nove comuni. Poco più di 23.000 residenti suddivisi in nove comuni e in decine di frazioni. Un'ampia porzione di territorio di oltre 800 km2, che si accede da tre province, quindi da diverse strade statali, provinciali, interpoderali e da quattro svincoli autostradali lungo l'A19 e che al momento ha una copertura solo dei carabinieri del Corpo Forestale della Regione in un territorio le cui restituzioni regionali e statali hanno da sempre riservato il minimo indispensabile. In una lunga retta indirizzata al generale Andrea De Gennaro, comandante generale della Guardia di Finanza e al ministro dell'Economia e Finanza Giancarlo Giorgetti, si chiede un passo indietro nella decisione. La lettera è stata firmata da Vincenzo Lapunzina, presidente delle zone Franche e Montane, con l'obiettivo proprio di garantire i servizi essenziali a presidio della legalità, partendo proprio dalla riapertura della tenenza alla Guardia di Finanza.